Il nostro spin-off X09 è fortemente specializzato nel campo dell'aeronautica dove si concentra la maggior parte delle nostre attività. Ci occupiamo di simulazione, ottimizzazione progettuale e sviluppo software per una vasta gamma di applicazioni aeronautiche. L'obiettivo principale di X09 è quello di fornire un supporto ingegneristico avanzato per la progettazione e lo sviluppo di componenti aeronautici e aerospaziali innovativi e competitivi, il che significa ridurre i tempi e i costi di progettazione e sviluppo e incrementare costantemente la qualità e le performance operative dei prodotti stessi. Le nostre competenze spaziano dall'ottimizzazione progettuale multidisciplinare e multiobiettivo all'integrazione di tecniche di intelligenza artificiale nel design e nella modellazione di sistemi complessi, al design e all'analisi di velivoli ipersonici e alle simulazioni aerodinamiche di geometrie complesse. Offriamo inoltre un supporto ingegneristico completo per la progettazione, lo sviluppo e il test di prototipi in ambito aeronautico. Infine la nostra attenzione e il nostro impegno nei confronti del trasferimento tecnologico garantiscono che le nostre soluzioni trovino un'immediata applicazione pratica nel mercato aeronautico globale. Attualmente ci stiamo concentrando sullo sviluppo di un innovativo propulsore a turbina di piccola taglia e progettato appositamente per velivoli a guida autonoma, i cosiddetti UAV. Questo propulsore integrerà delle tecnologie avanzate nei settori della termofluidodinamica, dell'ingegneria dei materiali e dell'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo con questo prodotto è fornire una soluzione che garantisca una maggiore affidabilità e autonomia di volo grazie ai consumi ridotti, migliorando nel complesso la gestione energetica del velivolo. Il sistema di controllo attivo del propulsore ottimizzerà l'efficienza e consentirà inoltre una maggiore flessibilità operativa per una vasta gamma di emissioni, dalla sorveglianza alla ricerca. Questo propulsore rappresenta un'evoluzione significativa nel settore della propulsione a getto su piccola scala rispondendo alle crescenti esigenze del settore aeronautico. L'introduzione di questo nuovo propulsore avrà un impatto significativo sia nel settore della difesa che nella sorveglianza ad alta quota per applicazioni civili. Questi droni potranno sorvolare aree remote difficilmente accessibili per operazioni di sorveglianza e monitoraggio, migliorando la sicurezza pubblica e la gestione tempestiva di eventi critici, come per esempio disastri naturali e situazioni di emergenza. L'adozione diffusa di questa tecnologia potrebbe offrire un livello superiore di protezione per le comunità locali e contribuire a prevenire e a gestire delle situazioni di emergenza in modo più rapido e più efficace.